Sì, la Coppa del Mondo Junior. Sì, è stato bellissimo entrambe. Entrambe le esperienze sono state meravigliose. Napoli mi è rimasta molto di più nel cuore, perché comunque gareggiare nella propria regione, con tutti i familiari dietro, tutti gli amici che tifavano per noi, è stato bellissimo. Una festa assurda, quindi un'emozione indimenticabile. Anche la medaglia d'oro, abbiamo stabilito il nuovo record europeo a squadra, quindi la soddisfazione è immensa. Qual è stato il momento più difficile? Hai avuto qualche esitazione in questi momenti? Sì, allora quando abbiamo fatto la finale per il bronze match, noi eravamo in vantaggio sull'India di un bel po' di punti, quasi 8, però erano riuscite a recuperarci, eravamo arrivati 12 a 14, a noi mancava un punto che non riuscivamo a fare in nessun modo. Quello è stato il momento più difficile, però sangue freddo, pistola ferma, abbiamo cercato di vincere questa medaglia e ci siamo riusciti. Sulla scia di questi vittori, qual è il prossimo traguardo per Maria Barretti? Allora, domani partirò per i campioni italiani a Bologna, spero di riuscire a portare a casa qualche medaglia, non so, darò il massimo e speriamo di prenderci qualche altra bella soddisfazione.